Torna la tendopoli dei giovani da domani al 25 agosto al santuario di San Gabriele si svolgerà infatti la 44esima edizione proprio della tendopoli dei giovani. La speranza cuore della tenda è il titolo dell'edizione 2024 alla quale parteciperanno centinaia di ragazze e ragazzi provenienti da varie parti d'Italia. La tendopoli inizierà come detto domani alle ore 18 e 30 con il saluto da parte del superiore provinciale dei passionisti d'Italia, Francia e Portogallo. In serata alle 21, Trendfest con il musical su San Francesco Forza Venite Gente. Venerdì e sabato i giovani incontreranno alcuni esperti e testimoni del mondo ecclesiale e della società tra i quali Don Maurizio Patriciello, il prete antica morra che parlerà ai tendopolisti venerdì alle 11. La tendopoli si chiuderà domenica 25 agosto, giorno della festa popolare di San Gabriele, il santo dei giovani.